Non ho interesse alcuno, niente, per Van Norden e per la ragazza. Potrei starmene qui seduto a guardare tutti quanti gli accoppiamenti che in questo istante avvengono in tutto il mondo e il mio interesse rimarrebbe nullo, meno che niente. Non riuscirei a trovare differenze fra questo fenomeno e la caduta della pioggia o l'eruzione di un vulcano. Poi che manca quella scintilla di passione, non c'è significato umano nell'accoppiamento. E' meglio guardare una macchina e questi due sono come una macchina con gli ingrananci slogati. Ci vuole il tocco della mano dell'uomo per rimetterla in sesto. Ci vuole il meccanico.